Estra è presente ad Ecomundo da 4-5 anni e esponiamo le nostre attività principali che si distinguono dalla vendita di energia, gas e luce all'impegno sull'ambiente e anche in altri servizi della nostra grande azienda che offre in termini di telecomunicazione di efficienza energetica. Estra pur gestendo in larga misura la compravendita di energia segnatamente del gas che oggi resta il vettore di riferimento anche della transizione siamo proiettati sulle rinnovabili e nel centrare in quota parte anche noi gli obiettivi del Green Deal soprattutto laddove ci impegniamo sull'efficienza energetica, sulle comunità energetiche che stiamo cercando in questi giorni, in questi mesi di sviluppare nei nostri territori. È una bellissima manifestazione che nel tempo si è rivelata estremamente inclusiva, divulgativa, formativa di un ambito che in origine era sicuramente di nicchia o da addetti a lavori invece i temi dell'ambiente, dell'economia circolare grazie anche a questo tipo di manifestazioni stanno diventando patrimonio comune e oltre questo c'è un tema di realtà, di umanità che in questo mondo tutto legato alla transizione digitale è importante preservare quindi l'incontro delle persone come è giusto accada in una grande fiera. Grazie! Grazie! Grazie!